Siamo con Gianni Stoppelli qui al Centro Sociale Bruno, appena finito il suo spettacolo Niente più niente al mondo. E' stato stato Massimo Carlotto? Sì, tratto da un romanzo di Massimo Carlotto e portato, posso dire, egregiamente sul palco da Gianni. La storia è una storia particolare perché in fondo racconta la tristezza di chi vive una vita abbastanza rutinale, vive anche una povertà culturale. Insomma, è un po' lo spaccato della società odierna. Cosa ne pensi? Sì, nel senso che è uno spaccato della società odierna, però è lo spaccato di una società odierna che in realtà aspira ad avere ciò che gli viene proposto, come dire, quotidianamente. Cioè, comunque sono sempre rivolta a degli status symbol che i nostri sistemi di comunicazione propongono. Cioè, tu devi essere così, se sei così sei qualcuno. Perché poi in realtà, come ha osservato anche la Gualtieri, facendo questo spettacolo, alla fine un'intervista ho visto, lei diceva, eppure, alla fine, se fai i conti, questi tra i 1.402 e i 500 della figlia, 510 sono 2.000 euro. Tutto sommato una famiglia, certo, facendo anche sacrifici, tutto quello che vuoi, però potrebbe starci dentro. E invece l'ambizione ad ambire sempre a quel qualcosa in più che non è reale per la nostra esistenza, ma è reale per il mercato. Cioè, a noi hanno convinto tutti che per vivere dobbiamo avere questo, quello, quello e quell'altro. Che può essere vero fino a un certo punto, nel senso che, alla fine, se non ci puoi arrivare o in quel momento non arrivi, non è che uccidi tua figlia o metti in atto chissà quali meccanismi. Cerchi di sviluppare intanto la capacità di pensare che se viviamo per qualcosa non è certo per quello e soprattutto per creare delle dinamiche, dei meccanismi che ci facciano riscoprire il senso reale e anche di vivere, di essere insieme, di essere uguali, non attraverso le cose che abbiamo, le cose che acquistiamo, ma soprattutto attraverso le idee, i sogni, l'immaginario. La gente non investe più in questo. L'investimento è sempre in questi termini, sempre in termini economici. Non c'è più l'investimento rispetto a un immaginario, rispetto a un sogno, rispetto a altri tipi di... che non sono i sogni che ti dicono di raggiungere. Allora il sogno è fare il provino al grande fratello. È questo che secondo me hanno convinto tutti che il sogno da avere è quello. Se tu hai un sogno è quello, o diventi un calciatore famoso, sei una velina, o fai un sacco di soldi, o ti sposi uno con i soldi, non c'è più invece, come dire, cercare di sviluppare un immaginario, dei sogni propri, non di desideri sempre più indotti. Perché alla fine la questione è se almeno uno desiderasse le cose che veramente desidera, piuttosto che desiderare cose che gli vengono propinate, e non si rende neanche conto di desiderare i desideri degli altri. Cioè sono stato un po' contorto, però il concetto è quello. Comunque il tuo è un teatro fortemente politicizzato, è un teatro di denuncia, e da dove nasce questa esigenza di denunciare questo mondo che non funziona? Io voglio dire, a 15 anni sono stato giudicato, ovviamente lo racconto anche nel primo spettacolo, tra l'altro voglio dire, questo apre la seconda trilogia, che è La via umana morte, ed è una trilogia d'autore. Parte con Carlotto, mi fa tornare a Torino, mi fa giocare con le assonanze del nord, in questo caso Torino, centro, immaginavo il prossimo anno a Acab, e quest'anno mi sarebbe piaciuto sviluppare in forma di studio Acqua Storta di Luigi Carrino, quindi Campania, nord, centro, sud. E quindi, la prima trilogia invece è autobiografica, Anagramma via Artom, Fakebo, il Serano di San Gimignano, dove racconto la mia esperienza. Io a 17 anni, a 15 anni sono stato arrestato, ho avuto il processo, mi hanno chiesto l'ergastolo, mi hanno dato 28 anni. In qualche modo qualcuno ha dovuto e ha giudicato questa cosa. Io ho iniziato a fare teatro, probabilmente in questi termini, con coscienza e consapevolezza, proprio perché ho voluto utilizzare il teatro, nel momento in cui ho iniziato a interpretare la realtà attraverso questo, per restituire innanzitutto alla collettività il mio vissuto e l'esperienza, l'elaborazione di un fatto tragico come quello che è avvenuto a me, ma non solo a me, soprattutto anche alla famiglia, alla vittima di reato, eccetera. Tant'è che io nel Serano di San Gimignano chiudo il cerchio e mi prendo lo spazio, laddove nell'anagramma via Artom ho la sfacciataggine di mettere in scena il mio omicidio, nel Serano di San Gimignano prendo lo spazio per il perdono e per chiudere il cerchio, quindi il personaggio si suicida perché mi dà la possibilità di riaprire un nuovo ciclo, addirittura faccio la donna, torno a Torino per dire al mondo che sono altro. A me quello che mi preme dire, rispetto alla mia esperienza, al di là di questo testo, e rispetto al teatro carcere, eccetera, che quantomeno, io posso dire una cosa, di aver fatto un'elaborazione e aver dato una costruzione di senso che difficilmente avviene, nel senso che quando tu lavori comunque in autonomia è chiaro che rischi di più, che nessuno ti caghi, questo è il rischio, però è anche vero che tu sviluppi un tuo modo unico e ripetibile di manipolare lo strumento teatrale in questo caso, come può essere per la musica, come può essere per la danza, eccetera. Secondo me appunto l'autodidattismo diventa un fenomeno interessante perché comunque non ricalcando percorsi già tracciati ti dà possibilità ulteriori per costruire un senso, se no fai solo processi tautologici, cioè ripeti a grandi linee quello che considerati maestri o prima di te più bravi, eccetera, hanno costruito. Nel mio percorso sicuramente, oltre alla costruzione di senso dal punto di vista politico, per cui ho voluto narrare quella storia, ho voluto restituirla alla collettività, facendo tutto il percorso, c'è anche questo, anche quello artistico, nel senso che troppe persone anche nel percorso artistico in realtà smettono di credere, di sognare, cioè nel senso che io dico che alla fine l'arte, la vita, la biopolitica, no? E' questa, cioè alla fine ci hanno convinto su tutti i piani che dobbiamo o percorrere strade già tracciate e non osare, non rischiare. E invece secondo me è questo, anche perché Cantor diceva che l'arte è una ricerca, è un'apertura totale e permanente all'interno della quale ricerchi lucidamente e consapevolmente il rischio. E quindi in realtà oggi, a parte pochi come noi, pochi rischiano, no? Si mettono in gioco, mettono in gioco le proprie idee, i propri corpi. Una volta facevano a stecche per chi dovesse essere più radicale in piazza, oggi fanno a stecche per chi deve tirarsi indietro. Sì, sì, è chiaro. Ma un'altra cosa che colpisce è la tua critica rispetto al teatro in carcere, perché proprio tu lo analizzi in forma critica perché dici non basta fare delle buone azioni all'interno dei carceri, bisogna proprio mettere in discussione l'istituzione totale del carcere. C'era Shakespeare che diceva che i gigli quando marciscono puzzano più delle erbacce. Questo per intendere come nell'apparenza una buona azione possa poi determinarsi invece nefasta. E io credo che il rischio che sta correndo questo meccanismo del teatro carcere e non solo, ma proprio della smania di entrare all'interno del carcere a fare attività, no? che va bene, nel senso non è che non debbano esistirci, mancherebbe, anzi, devono essere ulteriormente rafforzate negli istituti in cui non ci sono. Ma purtroppo ci sono alcuni istituti che fanno un po' da spicchietto per le allodole, perché sono i cosiddetti carceri pilota o carceri modello, ma poi la realtà sostanziale non è fatta dai carceri pilota e carceri modello, che sarebbero anche lì da analizzare fino in fondo quanto le cooperative che lavorano dentro hanno interesse negli alpalti, nell'avere ovviamente la gestione di tutte queste cose. Quindi è chiaro che sono critico rispetto al teatro carcere, ma non rispetto al fatto che si faccia teatro in carcere, assolutamente. Dico semplicemente che secondo me è più importante aspettare fuori le persone che non andare lì a fare attività che poi non è detto che una volta fuori questi qua trovino poi delle possibilità reali, non solo dal punto di vista del lavoro, ma anche delle relazioni, degli incontri, eccetera. Quindi dico sempre chi va in carcere ci vada per un periodo, dopodiché se vuole continuare a fare qualcosa dovrebbe aspettare fuori questa gente, anche perché la recidiva si attesta intorno all'80%, quindi vuol dire che quel sistema lì, nonostante la presenza di tutta una serie di persone che ci lavorano dentro e del teatro, eccetera, non si modifica. Allora, se un sistema non si modifica, poniamoci la questione, anche perché il rischio è che in qualche modo, tra virgolette, anche no, si rischi di essere complice poi di un meccanismo che non si modifica, che non si mette in discussione e che produce il contrario di quello che invece è nelle sue premesse. Cioè, se con l'articolo 27 si vuole intendere che il carcere è un momento di transizione per preparare poi le persone ad affrontare eventualmente una nuova realtà, una nuova esperienza, se uno entra e esce per vent'anni e non ha mai fatto reati estremi, eccetera, vuol dire che qualcosa in questo meccanismo non funziona. vuol dire che appunto situazioni come invece i premi vari dai taviani alle cose senza nulla togliere il merito soprattutto agli attori alla bravura degli attori che sono sicuramente indiscutibili. Però, quali processi mettono in atto? Cioè, se io penso per esempio ai taviani a Cesare Deve Morire senza nulla togliere, ripeto, ai ragazzi che ci hanno lavorato, però se penso che è una scelta politica far vedere i reglietti e non gli aguzzini, allora se politica deve essere avrei preferito vedere Diaz. Cioè, soprattutto in questo momento dove l'abbiamo visto anche oggi la polizia non fa complimenti, cioè, manganellati in faccia a uno studente a sangue freddo mentre era bloccato dagli altri. Cioè, veramente, stiamo veramente ad una deriva pazzesca secondo me da questo punto di vista. E non è solo qua in Italia ma è ovunque. Io come oggi ho postato su Facebook siamo un po' sul modello sempre più Israele. Cioè, Israele insegna. Ma l'ultima domanda e poi ti salutiamo. che spazio c'è per il teatro di denuncia oggi in Italia visto che insomma sei anche impegnato in altre tappe e in altre date? Ma io ti posso dire provocatoriamente che i detenuti di Volterra sono stati al Teatro Verdi a Padova. Se io fossi un detenuto probabilmente avrei calcato il palco del Verdi. Dovrei farmi restare per avere visibilità. Sì, è paradossale. È paradossale però è così. È chiaro che probabilmente io eppure l'ho presentato il mio lavoro al Verdi l'ho presentato a Torino sono stato nella rassegna sul centocinquantesimo con una recensione della Maura Sesia che per dire iniziava dicendo c'è una coscienza nuova su cosa sia e come si faccia teatro nella vincente Anagramma Viarto di Gianni Stopelli finisce con Merita molte repliche non mi ha chiamato un cane uno ma sai uno allora dico se fossi stato però nel circo dei Taviani o di chissà chi altro mi avrebbero chiamato avrei avuto questo questo riscontro secondo me sì ma sinceramente a me non interessa a me mi devono chiamare perché sono rompicoglioni e voglio continuare a essere se vogliono chiamarmi se no va bene così continuerò a fare quello che faccio ti ringraziamo comunque per chi volesse avere maggiori informazioni sulla tua storia sulla tua biografia e anche sui appunto i tuoi spettacoli lo puoi fare al sito internet giannistopelli.it oppure sulla pagina facebook visto che comunque è uno strumento che tu usi sì ci ho fatto anche uno spettacolo ottimo grazie